Rafforzare la presenza femminile nei ruoli chiave della pubblica amministrazione, come i CDA delle fondazioni, quelli degli enti culturali o quelli delle società partecipate. È questo l'obiettivo che si pone alla Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale della Toscana, che ha deciso di rinnovare la Banca dei Saperi delle Donne, un portale online nato nel 2008 che raccoglie i curricula di centinaia di donne che lavorano o risiedono nella regione. Curricula che possono essere letti e valutati dagli enti pubblici che si sono registrati. Un sistema per passare dalle parole ai fatti. C'è una legge nazionale che impone che si rispettino delle quote, ce n'è una regionale che affronta lo stesso argomento, quindi la Banca dei Saperi deve servire a questo. Anche a eliminare l'alibi che le donne non ci sono, non sono disponibili, perché non è vero, non è così. Un problema di rappresentanza, quello invece anche in Toscana c'è. Basti pensare che solo 10 consiglieri regionali su 55 sono donne. Problema che potrebbe essere risolto introducendo quote rosa nella prossima legge elettorale regionale, ma questa strada, secondo il Presidente del Consiglio Alberto Monaci, è frutto della lettura peggiore del termine Pari Opportunità. Bisogna mettere nelle pari opportunità, non va letto pari posti, va letto come possibilità di arrivare tutti, partire tutti dallo stesso linea e arrivare un unico traguardo. Sicuramente le donne non arrivano ultime.